Buonasera, vediamo nei nostri titoli quali sono stati i fatti principali di questa giornata. Coltivavano un boschetto privato di cannabis a fianco al cimitero di Rimini, arrestati tre riminesi poco più che ventenni, incensurati. Tassa di soggiorno in Consiglio Comunale a Rimini approvate le nuove modifiche con esenzione anche ai disabili. Il Fellini trema in attesa del verdetto sul concordato, il Ridolfi invece chiude, l'Enac ritira la concessione, il 15 maggio lo scalo forlivese cesserà la sua attività. Fondazione Enaip inaugurato il nuovo centro socioeducativo dell'Associazione Zavatta a Santa Cuglina di Rimini. Ben ritrovati in studio. Dunque a fianco al cimitero di Rimini si erano fatti il boschetto privato di cannabis. Qualcuno l'ha detto alla polizia che ha scoperto e denunciato i tre giovanissimi che avevano trovato il sistema per procurarsi a basso costo la sostanza e pensavano anche a basso rischio. È un periodo di controlli serrati sul fenomeno da parte della sezione narcotici della polizia. Nei giorni scorsi è finito in arresto, ora in attesa di convalida, un altro ventenne per spaccio. Vediamo. Con la primavera nei giardini spuntano anche piante molto particolari. Alcuni cittadini avevano riconosciuto una strana fioritura in una fitta boscaglia accanto al cimitero e l'hanno segnalato alla polizia. Un paio di giorni di appostamento, i poliziotti della sezione narcotici si sono trovati di fronte ai coltivatori di marijuana, tre riminesi ventenni o poco più incensurati che si erano organizzati proprio bene. A casa avevano una cinquantina di piante in vasetti divisi con tanto di nome indicato su ognuno della specie di canapa piantata, compresa la cosiddetta skunk, considerata più pregiata. Oltre a una gran quantità di concimi e fertilizzanti perché prendessero bene le piante, un'altra cinquantina erano invece al cimitero, una quantità che però secondo gli inquirenti probabilmente era destinata solo alle loro esigenze, autoproduttori insomma, per cui ieri è scattata la denuncia. Il codice penale parla di già il fatto di produzione, di coltivazione, si commette il reato, insomma è un reato a sé stante. Probabilmente questa crisi ha indotto questi ragazzi giovanissimi a coltivare, cercare di coltivare le piantine per conto loro anziché poi andarle ad acquistare a cifre magari superiori per il loro uso personale. E' costato invece l'arresto martedì scorso a un altro giovanissimo, l'autocoltivazione in questo caso seguita dallo spaccio, secondo gli inquirenti, il ragazzo in casa aveva anche 60 grammi di cocaina. La perquisizione ha riguardato anche due negozi di alimentari a Marina Centro, intestati al ventenne che vive in famiglia. Qui 100 grammi di marijuana sono stati trovati già suddivisi in dosi. Nel suo caso a farlo scoprire non è stata una soffiata, era stato fermato per un controllo dopo aver passato un semaforo colorosso. Al personale della narcotici per insospettirsi era bastato vedere il suo comportamento inquieto e un particolare, un accendino con il disegno della cannabis sul cruscotto dell'auto. Una persecuzione telefonica continua è quella che ha dovuto subire per mesi una donna riminese al termine della storia con un uomo di qualche anno più giovane con cui aveva deciso di chiudere una relazione durata un anno. L'uomo la chiamava di continua a casa e al lavoro indirizzando le scurrilità di cui erano testimoni anche i due figli della donna e i colleghi di lavoro. In un'occasione aveva addirittura mandato in tilt il centralino dell'ospedale dove la donna lavora a causa proprio delle telefonate continue. Ieri il 32enne di Senigallia è stato arrestato con l'accusa di stalking e l'uomo era uno stalker seriale, aveva ricevuto un ammonimento nel dicembre scorso e un altro per un'altra vicenda nel 2009. Sono stati 57 i provvedimenti di ammonimento del questore di Rimini per stalking da quando è entrata in vigore la legge su questo reato nel 2009. Sei dall'inizio dell'anno, 46 dei totali hanno riguardato rapporti tra ex. Per nove di questi si è arrivati al secondo step dopo l'ammonimento, il divieto di avvicinamento o la custodia cautelare, come in questo ultimo caso. Sentiamo Enrica Bonini, dirigente del settore anticrimine della questura di Rimini. Nove di questi casi, fra cui quest'ultimo, di cui abbiamo tratto l'arresto ieri mattina, sono casi in cui dopo il provvedimento di ammonimento gli atti persecutori nei confronti della vittima sono continuati. Sono aumentate le denunce, ma sono aumentati anche i fatti, forse anche perché la donna sta prendendo coscienza e consapevolezza e coraggio nel denunciare gli atti persecutori da parte dell'ex compagno. E parliamo di un episodio di bullismo che si è consumato mercoledì pomeriggio. Due ragazzine appena a 13 anni sono state vittime al parco dei Gelsi di Bellaria da parte di quattro ragazzi, due 14 anni italiani e due 15 anni stranieri. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, i due stranieri avrebbero ingiuriato una delle due ragazze staccandole la ruota anteriore della bicicletta e tirandogliela addosso. L'amica che voleva difenderla è stata bloccata dagli altri due e che l'avrebbero malmenata tirandole i capelli. A casa le due vittime hanno raccontato tutto ai genitori che hanno denunciato il fatto ai carabinieri e hanno portato le figlie al pronto soccorso dove gli è stata data una prognosi di tre giorni. I carabinieri hanno identificato praticamente subito i quattro bulli. Le loro posizioni saranno comunicate alla Procura della Repubblica dei minorenni di Bologna e ai competenti uffici comunali e scolastici. È stato informato il sindaco e sono stati informati i dirigenti delle scuole di Bellaria e Giammarina frequentati dalle vittime e dagli autori del gesto. La prossima settimana ci saranno incontri di sensibilizzazione nelle scuole medie di Bellaria aperti anche ai genitori. Andiamo a parlare di aeroporto. Il Fellini trema in attesa del verdetto sul concordato mentre Ridolfi chiude proprio. L'Enac ha infatti comunicato che alle 24 di mercoledì 15 maggio lo scalo forlivese cesserà la sua attività dopo 77 anni dall'inaugurazione con Benito Mussolini. Con la procedura di fallimento di SEAF, la società di gestione dello scalo e la nomina di un commissario fallimentare al posto del dimissionario commissario liquidatore l'Enac ritiene che non ci siano più le condizioni per il mantenimento della certificazione. Fino a poco più di un anno fa era ancora in piedi il progetto della società romagnola degli aeroporti che poi è definitivamente naufragato. Andiamo in consiglio comunale adesso. È stata la tassa di soggiorno il tema principale della seduta di ieri a Rimini. Approvate le modifiche al regolamento con nuove esenzioni. Ieri sera inoltre c'è stato il debutto per una nuova iniziativa del Movimento 5 Stelle. Vediamo. Il Consiglio approva la tassa di soggiorno rivista e corretta. Introdotte agevolazioni anche per le famiglie con due o più figli minori estendendo l'esenzione anche a chi ha tra i 14 e i 18 anni e per gli anziani che viaggiano in gruppi organizzati da enti pubblici. Un emendamento della maggioranza ha introdotto esenzioni anche per le persone con invalidità del 100% e per i loro accompagnatori. Respinti invece gli emendamenti dell'opposizione come quello della Moretti del PDL che chiedeva di esentare anche le gite scolastiche. A favore delle modifiche introdotte la maggioranza, contrari, PDL e Renzi ha senuti 5 Stelle e Italia dei Valori. Respinte le mozioni di Camporesi del 5 Stelle che chiedeva la sospensione del progetto del forno crematorio comunale e quella di Brunori contro la privatizzazione degli asili. Nell'ora delle interrogazioni ha debuttato l'iniziativa del 5 Stelle che dopo la mancata approvazione del question time del cittadino ha deciso di farsi portavoce delle istanze ricevute. La prima riguardava gli inquilini di un condominio acera alla Gaiofana che lamentano diversi problemi allo stabile vecchio solo di due anni. L'assessore Lisi ha risposto che non è giusto che i residenti del condominio paghino le spese per le inefficienze altrui. Soddisfatto il 5 Stelle che promette di monitorare il rispetto delle risposte ricevute in aula. Sono 250 gli studenti della FUCI, la federazione universitaria cattolici italiani che stanno vivendo il loro congresso nazionale a Rimini. Al centro della riflessione del confronto, il tema della democrazia. Uscire dalla crisi insieme come popolo, così come fecero gli ebrei dell'Esodo, la strada da seguire è la democrazia declinata nelle sue diverse forme. Sono circa 250 gli universitari cattolici della FUCI a congresso nazionale a Rimini. Al loro fianco per aiutarli ad interpretare i tempi e a suggerire ipotesi di speranza per il futuro, economisti, docenti, costituzionalisti. La speranza della democrazia è la speranza delle persone, perché la democrazia da sola non vive e vive solo se ci sono persone che sono disposte a spendersi, così come è capitato nei momenti più bui della nostra storia. Informazione, partecipazione, istruzione, sono diversi gli aspetti che incidono perché si possa affermare una vera democrazia. Il problema della democrazia è avere dei meccanismi in cui i cittadini possano scegliere, possano scegliere persone e non sigle, possano scegliere direttamente chi li deve governare e quindi il Presidente della Repubblica, secondo me, eletto direttamente o comunque insomma delle formazioni che sono responsabili di fronte ai cittadini. Questo non significa essere contro la Costituzione, ma essere rispettosi della Costituzione e della sua origine e della sua collocazione storica. Il caso italiano è molto particolare perché il tema dell'informazione è affrontato non cercando appunto di sviscerare tutti i problemi che esso pone come accade altrove, ma in termini partigiani, cioè il tentativo di risolvere il problema del rapporto tra informazione, media e democrazia è affrontato in termini partigiani e dunque è invece che una soluzione un problema esso stesso. E al Congresso della FUCI è dedicato all'appuntamento dei giorni della Chiesa in programma questa sera alle 21.10. Inaugurazione questa mattina per il nuovo centro socioeducativo dell'Associazione Zavatta a Santa Quilina di Rimini. Un momento di festa all'interno della quinta conferenza organizzativa della Fondazione Enaip per fare il punto sulla situazione attuale e le prospettive future. E per sottolineare, come sia sempre importante, investire nel sociale. Taglio del nastro questa mattina per il nuovo stabile che ospita il Centro di Terapia Occupazionale per Ragazzi con Handicap. Un centro che rientra nelle diverse attività dell'Enaip e del Centro Zavatta legate al disagio sociale. Si tratta di un impegno economico importante, soprattutto in un periodo di profonda crisi. In questa struttura rientrerà uno dei nostri centri di terapia occupazionale con ragazzi con handicap, che hanno l'opportunità di vivere finalmente in uno spazio adeguato e di grande innovazione. Abbiamo investito credendo che il sociale sia sempre un ambito nel quale sia giusto investire e quindi anche se in questo momento di difficoltà economica, anche per noi il pensiero di pagare tutto ciò non è che non ci tocchi, ma faremo di tutto per portare i conti in pari così come è sempre successo negli ultimi anni. Una nuova struttura, a pochi passi da quella vecchia, che potrà così ospitare al meglio le diverse attività portate avanti dai ragazzi. Presenti oggi a sottolineare l'importanza della collaborazione tra i vari soggetti coinvolti, amministratori e dirigenti pubblici. Soci della struttura, che ospita attualmente 25 ragazzi e impegna circa 10 operatori, sono le Acli e la Diocesi di Rimini. Un'opera come questa ci fa capire, ci dice che si può affrontare un presente incerto e un futuro che si annuncia molto problematico se ci mettiamo insieme e se soprattutto noi diamo la precedenza ai poveri, ai poveri nel senso più ampio del termine, a coloro che fanno fatica a vivere. Solo se noi uniamo le nostre risorse, le nostre buone volontà, le nostre forze, possiamo allora sperare anche per il futuro. Il 25 maggio si terrà a Viserba la prima festa delle acque, promossa dai comitati e dalle associazioni di categoria locali. Un evento che si pone come festa d'inizio stagione, ma anche come occasione per ripensare l'identità presente della zona. Da frazione che solo due anni fa chiedeva l'autonomia al rapporto di oggi con la nuova idea del Masterplan che vede Viserba, città delle acque, con parcheggi a Monte della Ferrovia e riqualificazione dei viali sul mare. La festa sarà anche l'occasione per presentare alcuni progetti per Viserba a partire dall'area della Sacra Mora, con il cantiere in piazza Pascoli a fare da sfondo, da intoppo trasformato in scenario. La sfida di una sera, che poi diventa qualcosa in più, che è la rappresentazione di Viserba come era, come oggi, con le sue potenzialità ma anche difficoltà, alla volontà di Viserba come sarà. Sette progetti di edilizia sostenibile e di riqualificazione che vanno a lungomare ai nuovi parcheggi a nuova piazza di Viserba, realizzata con degli architetti totalmente autoctoni, un genius loci viserbese, per pensare quella che è una realtà che fa 16.000 persone. C'era una istanza legittima degli abitanti di Viserba di chiedere qualcosa in più, avevano pensato persino al Comune Autonomo. Cosa abbiamo fatto? Ci siamo messi di fianco semplicemente ai cittadini che abitano a Viserba, coltivando con loro un percorso. L'amministrazione del Comune non vuole imporre un progetto di riqualificazione urbana. Abbiamo incominciato a costruirlo insieme. L'idea è di trasformare Viserba attraverso un'idea forte, Viserba a terra delle acque. Sabato 25 maggio ci saranno diversi punti musica, coi ragazzi del polo scolastico a fare da DJ, punti cibo, zone d'arte, mostre fotografiche e animazioni per i bambini, condizioni per partecipare, indossare qualcosa di azzurro e che ogni viserbese inviti un non viserbese. Non è stato facile mettere d'accordo tutti, in particolare chi pensava fosse l'ennesima festa turistica, ma con l'accordo tra categorie, associazioni e il sostegno del Comune, il risultato è arrivato. Tutti insieme per un obiettivo comune, cercando di superare gli steccati, le opportunità diverse, eccetera. Questa festa, la festa delle acque, deve diventare veramente la festa del paese che i viserbisi fanno per loro e la aprono a tutti i loro amici, a tutti i cittadini di una rimini più grande. Siamo alle notizie dei 100 secondi. Entra in vigore domani l'ordinanza balneare della Regione, che definisce anche le modalità di balneazione. Ogni comune ha però facoltà di decidere la propria data di avvio. Quella fissata dal Comune di Rimini è il 25 maggio, in concomitanza con l'avvio del servizio di salvataggio. Il periodo terminerà il 7 ottobre, termine ultimo. Nei prossimi giorni l'amministrazione presenterà le modalità dell'ordinanza e posizionerà la segnaletica. Le analisi dell'acqua di Arpa cominceranno già da domani. Ieri pomeriggio i carabinieri di Miramare hanno arrestato due spacciatori tunisini di 31 e 35 anni. I due, da tempo tenuti d'occhio, sono stati sorpresi mentre recuperavano 11 dosi di eroina, circa 26 grammi, nell'aiuola di un hotel della zona. Il Tribunale di Rimini stamattina ha deciso l'obbligo di dimora a Misano in una struttura e di non uscire di casa dalle 20 alle 6. Nel sottoscala di casa sua, dove era già gli arresti domiciliari per spaccio, nascondeva oltre 150 grammi di hashish. Ieri pomeriggio a Cattolica i carabinieri hanno arrestato un riccionese quarantenne disoccupato. Tentato furto in municipio a Bellaria questa mattina alle 5, i ladri hanno fatto scattare l'allarme e un civis ha trovato una porta del primo piano aperta. È stata forzata la porta di un androne del primo piano, ma non è stato rubato niente. I carabinieri stanno vagliando le immagini della videosorveglianza. Sarà presentato domani alle 17 al Palazzo Bonavrata in corso d'agusto a Rimini il secondo volume della storia della chiesa riminese. Il libro, promosso dall'Istituto Marvelli e dalla Biblioteca diocesana, ripercorre il periodo che va dalla lotta per le investiture ai primi anni del Cinquecento. Come primo appuntamento del ciclo percorsi di partecipazione, ieri sera a Palazzo Marco Santi di Poggio Berni si è tenuto un incontro dal titolo Dibattersi nella crisi o cercare insieme vie d'uscita. Relatore, l'economista riminese Stefano Zamagni, ordinario di economia politica all'Università di Bologna, Zamagni ha parlato del rapporto tra etica ed economia e della necessità di utilizzare nuovi paradigmi per superare la crisi. Siamo nel 2013 a quasi a metà e la ripresa non si vede e non si vedrà ancora per diversi mesi a venire. Ecco perché oggi parlare di etica non ha più senso parlare in senso generale generico. Bisogna specificare in che senso si vuole e capire che se si vuole raggiungere l'obiettivo dichiarato, in questo caso tendere alla piena occupazione, bisogna smetterla con le categorie di pensiero ereditate dal passato e soprattutto osare vie nuove. Ci vuole un po' più di intraprendenza nell'agire politico. Invece prevale ancora quell'atteggiamento lassista, burocratico, eccetera. Ma il lavoro non lo crea né la burocrazia né la reddita, lo crea solo l'impresa produttiva. Tutta l'attività bancaria deve tornare a essere etica. Etica vuol dire che devono tornare a fare i ponti, a gettare i ponti tra risparmiatori e imprenditori. Noi cristiani abbiamo anche noi la nostra fetta di responsabilità, perché negli ultimi decenni abbiamo lasciato fare troppo agli altri. Il nome di un malcelato concetto o di laicità o di pluralismo, eccetera, e adesso vediamo le conseguenze. Ci siamo ritirati dalla sfera pubblica e in particolare da quella politica pensando che questo rappresentasse un avanzamento e invece abbiamo toccato con mano le conseguenze. Più nello specifico, i cristiani dovrebbero fare più tesoro di alcuni principi tipici della dottrina sociale della Chiesa, e cioè il principio di sussidiarietà da un lato e soprattutto l'attensione al bene comune. Sarà inaugurato domani alle 11.30 al Parco del Sole di Misano Brasile il progetto Un chilometro in salute, il cui obiettivo è quello di creare gruppi omogenei di cammino. Ci spiega di cosa si tratta Roberto Bonfantini. Sarà attivo fino al 31 luglio, due volte a settimana, il progetto sperimentale Un chilometro in salute, promosso dal Comitato Provinciale della WISP in collaborazione con l'Ausole di Rimini, il Comune di Misano e l'Associazione Sportiva Misano Podismo. È rivolto gratuitamente a persone di età comprese tra i 18 e gli 80 anni. Solo il 16% della popolazione adulta riminese è inattiva, il 41% risulta invece svolgere attività fisica in maniera corretta. L'obiettivo del progetto è testare nei prossimi tre mesi almeno 480 persone. Questo tipo di progetto vuol fare sì di creare gruppi di cammino omogeneo in modo che tutti possano camminare in sicurezza e piacevolmente con il proprio passo e con il passo dei propri vicini e anche eventualmente presentandosi anche da soli o in piccoli gruppi trovare, grazie all'utilizzo di braccialetti colorati che determinano e caratterizzano le loro capacità anche con altri che non conoscono per fare gli stessi percorsi alla stessa intensità e alla stessa velocità. Abbiamo deciso di valorizzare questo progetto, l'ultimo nato di questi investimenti, il Parco del Sole a Misanovo, Brasile che abbiamo realizzato con fondi europei è aperto poco più di un anno fa e secondo me c'è un miglioramento della qualità perché si tratta di un progetto con caratteristiche tecnici e scientifiche molto importanti che favorisce la mobilità che fa bene alla salute e fatta in compagnia. Era il nostro ultimo servizio, vi lascio in compagnia delle previsioni del tempo dalla redazione, buona serata. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.